Sindaco, primo giorno di scuola, oggi il suo classico tour per le scuole, per dare il buon anno scolastico agli alunni e in scuole che sono state anche ristrutturate e messe a norma. Quest'anno, solo nel mese di agosto, abbiamo speso 1.080.000 euro con messa a norma, messa in sicurezza di alcune scuole, con adeguamenti sismici, con tinteggiatura, con porte nuove, quindi insomma davvero tanti interventi con le uscite di sicurezza, l'abbattimento delle balliere architettoniche. Alcuni di questi lavori devono terminare, ma termineranno entro settembre, però le scuole si sono fatte trovare pronte, devo dire per un grande entusiasmo, insomma i ragazzi sono tornati a scuola dopo il periodo di estivo con una grande carica. Primo giorno di scuola, tutta è la prima? Sì. Quindi vi state già conoscendo all'esterno? Sì. Sì. Come vi sentite per questo giorno? Ma abbastanza emozionate. Emozionate. Emozionante. Molto emozionata, emozionata. Avete lasciato la scuola elementare per la prima media, quindi nuovi compagni, e cosa avete pensato di questo giorno, tutta l'estate? Ma non lo so, non so cosa si fa, quindi... L'aspettavate? Beh sì. Sì. Prima o poi sì. Sono stato un po' emozionato e... Sei contenta? Sì, no, un po' contento, sono contenta. Farai la? Prima B. Quindi la prima media, primo anno alle medie, cosa hai pensato fino ad oggi, aspettando questo giorno? Di prendere buoni voti, andare bene a scuola e comportarmi bene. Emozionato. Che classe farai? La prima H. Quindi lasci la scuola elementare per quella media? Sì. Conoscerai i nuovi compagni? I nuovi compagni e altri che ci conoscono sono andati anche in classe mia. Pensando a questo giorno, tutta l'estate, cosa hai pensato? Che bisogna divertirsi, ma non troppo, perché se no poi si guai. Quindi devi studiare. Sì. Primo giorno di scuola dell'ultimo anno di scuola media? Sì, sì. Come vi sentite? Emozionati. Pure. Ragazzi, passate bene? Sì. Si ricomincia? No. Sì.